Sono stati individuati altri due uomini accusati di concorso nell'omicidio di Johnny Sulejmanovic, il giovane di origine bosniaca, morto a colpi di pistola nella notte tra il 25 e il 26 aprile mentre si trovava in un furgone in via Varsavia, dietro l'ortomercato di Milano. Una vera e propria spedizione punitiva che si è conclusa con l'uccisione del giovane bosniaco. Per questo in tre sono stati rinviati a giudizio con il rito immediato, saltando quindi l'udienza preliminare. Si tratta di Roberto Ametovic, 33 anni, Jagovar Ametovic, 38 e Rubino Sulejmanovic, 35, tutti insieme a un quarto uomo ancora irreperibile, accusati di aver preso parte alla spedizione punitiva nei confronti del giovane. Il processo si aprirà il prossimo 4 novembre davanti alla Corte d'Assise di Milano. A quanto ricostruito nel corso delle indagini condotte dalla squadra mobile e coordinate dal PM Pasquale Adesso, all'agguato avrebbero partecipato in sei. La spedizione punitiva per il GIP Luigi Iannelli è stata pianificata e organizzata. Ciascuno dei partecipi, si legge, ha svolto un ruolo determinante e finalisticamente orientato ad aggredire mortalmente la vittima. All'agguato gli indagati sono giunti insieme, armati di spranghe e di almeno un'arma da fuoco. Erano le 3.15 di notte di venerdì 26 aprile. Il commando ha prima preso a bastonate il Fiat Ducato Grigio, rompendo i vetri. Poi sono passati alle armi, sparando contro il giovane con una pistola e colpendolo al torace. Sei colpi, secondo gli inquirenti, all'arrivo dei soccorsi. Le condizioni del nomade bosniaco erano apparse subito molto gravi e un'ora dopo era stato dichiarato il decesso.